iniziamo con docker dunque io sono chiara ho 27 anni abito in provincia di siena nel lavoro si sente un po lavoro come web developer a press sinta consulting dal 2018 e vengo dal dal mondo dotnet c sharp e nel mio tempo libero amo giocare a calcio e a tennis e sono una fanatica delle serie tv ma passiamo al docker allora iniziamo col dire che se si ha bisogno di creare un'applicazione per renderla disponibile al pubblico è necessario un posto in cui ospitarla in passato se si voleva pubblicare online un'applicazione era necessario configurare letteralmente un computer e un servizio web dedicato chiamato server ma poi con il passare del tempo questo sistema rendeva molto difficile la gestione del software in più non c'era modo di definire i limiti delle risorse per le applicazioni in un server fisico e questo ha causato dei problemi di allocazione delle risorse per esempio se dobbiamo eseguire più applicazioni su un server fisico sullo stesso server fisico si possono verificare casi in cui un'applicazione assorbe tutte le risorse e le altre non non hanno le prestazioni attese e così sono arrivate le macchine virtuali ma che cosa sono allora una macchina virtuale non è altro che la virtualizzazione di un server fisico ovvero una macchina virtuale consente di eseguire sullo stesso hardware quelli che sembrano essere molti sistemi separati anche se in realtà si tratta di un unico sistema però come si può immaginare tutto ciò può diventare molto costoso in termini di risorse hardware hosting tempo di installazione e configurazione delle macchina per non parlare del pesante utilizzo del sistema operativo infatti immaginiamo di installare wordpress in locale per fare questo si dovrebbero eseguire una marea di passaggi prima di arrivare in fondo e proprio per evitare questa lunga procedura è molto meglio utilizzare container i container possono essere considerati una sorta di evoluzione delle macchine virtuali che che introduce importanti innovazioni nella tecnica tradizionale il concetto è leggermente diverso rispetto a quello delle macchine virtuali e infatti container condividono lo stesso kernel del sistema operativo e isolano i processi applicativi dal resto dell'infrastruttura e questo sistema ottimizza l'utilizzo delle risorse e riduce la necessità dei sistemi operativi ridondanti e questo è appunto rispetto alle macchine virtuali insomma molto meglio e come si può vedere dall'immagine il componente principale della virtualizzazione che era l'hypervisor ovvero un software che gestisce le macchine virtuali in esecuzione sulla macchina host è stato sostituito da un nuovo componente nel container engine e questo è il compito di far girare i container e nella macchina allora però cos'è docker docker è una piattaforma open source utilizzata per lo sviluppo l'esecuzione e la distribuzione delle applicazioni con l'utilizzo dei container e utilizza un'architettura di tipo client server e i componenti principali sono sostanzialmente tre docker che è il client che invia comandi e richieste al server docker ovvero il server che gestisce tutti gli oggetti docker tra cui container le immagini e infine i registri c'è un registri pubblico in cui si possono trovare tutte le immagini pubbliche e su cui è possibile caricare anche le proprie immagini private il diciamo registri di default è il docker hub anche se poi ce ne sono altri però ecco quello principale il docker hub e come si può notare dallo schema diciamo in una situazione ideale il client invia le richieste digitate dall'utente al server i comandi docker utilizzano le piai di docker e il docker dimon che è appunto il server resta in ascolto nell'attesa di nuove richieste e può trovare le immagini richieste nel registri nel docker sul docker hub e come potete immaginare ci sono tanti vantaggi nell'utilizzo dei container questi sono i più importanti anche se diciamo ce ne possono essere altri ma questi sono quelli principali alla prima di tutto sono leggeri i container occupano soltanto qualche megabyte e impiegano qualche secondo per avviarsi il diplo il deploy è molto semplificato perché infatti l'unità di deploy è un'immagine autoconsistente e versionata pronta per essere eseguita in termini di scalabilità ci sono tanti vantaggi perché un container che gira su un istanza docker può essere facilmente replicato su un'altra con le stesse funzionalità e la stessa consistenza isolamento perché le dipendenze le impostazioni all'interno del conte dei container non influiscono sulle configurazioni del computer e oppure su qualsiasi altro container che è in esecuzione e infine la sicurezza infatti le applicazioni in esecuzione sui container sono completamente isolate l'une dalle altre come ho detto anche sopra questo significa che nessun container può vedere i processi che sono in esecuzione dentro ad un altro e né tantomeno interferire con con il loro funzionamento come ho spiegato l'utilizzo di docker porta molti vantaggi ma ovviamente come tutto questo strumento come tutti gli strumenti non è la soluzione a tutto infatti ci sono molti scenari in cui ancora è preferibile continuare a utilizzare delle macchine virtuali e prima di tutto se si ha a che fare con l'architettura di microservizi la containerizzazione risulta la scelta migliore i microservizi cosa sono sono un tipo di architettura che struttura l'applicazione come una raccolta di servizi i sistemi software di solito nascono generalmente come come applicazioni monolitiche in cui l'interfaccia utente e il codice di accesso ai dati sono combinati in un unico programma ma poi con il con la crescita dell'applicazione diciamo che un monolite può diventare un po difficile da mantenere da distribuire e al contrario i microservizi scompongono i sistemi in funzioni più semplici che possono essere implementati in modo indipendente e questo è il motivo per cui i container sono il miglior host per questo tipo di servizi perché sono autonomi facilmente implementabili ed efficienti in più se si ha un team di sviluppatori che lavorano con diversi con configurazioni diverse docker dalla possibilità di avere ambienti di sviluppo locali simili alla produzione e infine quando si ha la necessità di pubblicare l'applicazione su più fasi di sviluppo come per esempio qui ho messo il dev il test e la produzione ma c'è un enorme ma non è tutto oro quello che luccica e sì perché come dice il titolo del mio speech docker può presentare anche delle insidie come vedremo poi in seguito allora prima di tutto nella gestione dei dati infatti se si vuole preservare i dati si deve fare in modo di non scriverli all'interno dei container perché se si rimuove o si riavvia il container si perdono inesorabilmente tutti i dati quindi esistono due soluzioni a questo problema i volumes o i bind mount il bind mount il primo richiede di memorizzare i dati in una parte specifica del file system del host che si chiama docker volumes directory ed è gestita direttamente da docker l'altro dalla possibilità di memorizzarle in una directory qualunque del file system quindi la differenza tra questi due tra queste due soluzioni è il posto in cui dobbiamo caricare i dati in più dobbiamo sapere come come scrivere un docker file oppure un docker compose file nessuno ci dice cosa dobbiamo metterci dentro quindi sia costretti come al solito a fare qualche ricerca sul web e sperare di trovare quello che ci serve serve una buona conoscenza della shell di linux o meglio di linux in generale ma in particolare della shell perché è l'unico diciamo il prompt e comandi è l'unico modo per interagire con con i container e docker in generale non abbiamo un'interfaccia utente appunto l'unico come ho appena detto l'unico modo è tramite l'unico modo di interagire tramite console e non risulta diciamo intuitivo per per niente e infine il debug il debug è un po complicato e lento e risulta quindi essere una perdita di tempo durante lo sviluppo quindi alcune di queste insidie diciamo possono essere risolte nel contesto in cui ci troviamo e in cui stiamo sviluppando come per esempio la questione del debug mentre altre per esempio come scrivere correttamente un docker file sono problemi ricorrenti quindi c'è da rimboccarsi le maniche ma il segreto sostanzialmente sta nel capire come costruire queste immagini e come orchestrarle però prima di tutto dobbiamo definire alcuni termini importanti prima di passare a questo innanzitutto abbiamo parlato di docker file cioè ho parlato di docker file ma ancora non ho detto che cosa che cos'è dunque è un file di testo che definisce un'immagine docker tramite una sintassi semplice e concisa mentre un'immagine docker è un modello di sola lettura contenente istruzioni per la creazione di container e i container sono diciamo l'istanza di un'immagine docker ogni istruzione del docker file crea un livello sull'immagine e quando si modifica il docker file e si ricostruisce l'immagine vengono ricostruiti soltanto i livelli che sono stati modificati e in breve quindi si deve scrivere un docker file per costruire un'immagine per eseguire dei container e questo è un semplice esempio di docker file che contiene alcune alcune delle diciamo le principali istruzioni la prima è il from che è sicuramente l'istruzione più importante in perché inizializza una una nuova build imposta all'immagine di base da cui partire quindi questa questa istruzione diciamo che non può mai mancare workdir che crea una una directory di lavoro dell'applicazione per altre istruzioni come run copy e ad che seguono poi nel docker file copy installa tutte le dipendenze dell'applicazione e poi abbiamo run questo comando genera un livello che porta con sé tutte le modifiche derivate dal comando stesso quindi è preferibile consigliato diciamo inserire più comandi correlati all'interno di una singola istruzione run in questo caso abbiamo npm come comando e install come parametro il che vuol dire installare un'applicazione e tutti i pacchetti necessari per il corretto funzionamento poi c'è expose che consente a docker di sapere su quali su quali porti il container resterà in ascolto durante il ram time è chiaro è importante avere chiaro che questo comando non non apre le porte ma le porte specificate ma fa sapere a docker che deve eseguire un forwarding e l'ultima è cmd che ha effetto sul container quindi non modifica assolutamente l'immagine ne aggiunge nuovi livelli e imposta il comando da da eseguire durante l'esecuzione dell'immagine e inoltre si può aggiungere una sola istruzione di questo tipo all'interno del docker file quindi e adesso cosa dobbiamo fare con queste immagini bene ora se sia la necessità di eseguire applicazioni docker che richiedono sia back end che front end allora dobbiamo utilizzare qualcosa per definire ed eseguire applicazioni multi container e questo qualcosa è il docker compose dunque il docker compose è uno strumento di orchestrazione per applicazioni complesse con funzionalità minime e sostanzialmente se si vuole utilizzare questo strumento si devono si devono seguire si devono eseguire tre passi prima di tutto va definito l'app environment con un con un docker file poi va scritto un file un docker compose yaml file e infine va eseguito un comando speciale che è docker compose app ora se prendiamo come come esempio il problema di wordpress che ho presentato all'inizio possiamo facilmente risolverlo con il docker compose qui infatti abbiamo il file all'inizio del file come vedete ci sono tutti i servizi di cui abbiamo bisogno per far funzionare wordpress c'è la sezione relativa alla gestione dei dati e da notare la la soluzione dei volumi che ho spiegato prima e e poi abbiamo la sezione di wordpress con tutte le variabili d'ambiente la sintesi è un po diversa da non tantissimo ma è un po differente da da quella del del docker file e infine non resta che eseguire il comando docker compose app e il gioco è fatto siamo arrivati alle conclusioni e sicuramente docker è uno strumento molto potente e all'avanguardia ma come tutte le tecnologie si deve sapere si deve saperlo usare nel modo giusto e prima ancora si deve sapere come funziona perché altrimenti si rischia di non non poter sfruttare al meglio tutte le le potenzialità di questo strumento quindi cosa portare a casa e dunque in sintesi come abbiamo detto la virtualizzazione non è abbastanza o al giorno d'oggi diciamo i container sono nello standard e il docker file il docker compose vanno bene ma per scenari un po più diciamo semplici e per tutto il resto beh c'è il cloud come kubernetes eccetera eccetera e quindi io vi ringrazio spero che non vi siate annoiati e ci sono alcuni link relativi all'articolo che ho scritto su questa presentazione e quindi quando condividerò le le slide se vi fa piacere potete potete darci un occhio ottimo chiara grazie mille grazie a voi complimenti per il talk e grazie per averlo condiviso con noi ricordo a tutti che le domande le facciamo su slido e c'è il link in chat lo condivido anche più tardi per chi è entrato in ritardo e magari non l'ha visto adesso passiamo la palla davide che invece si fa con molta nonchalance del live coding su su docker si esatto quindi senza ulteriori indugi direi puoi condividere il monitor sempre se riesco anche una delle parti più difficili la parte che è del tol che è questa ok ti lascio il palco virtuale anche a te in bocca al lupo grazie mille allora so che già il titolo magari intriga qualche devops che c'è nell'audience però andiamo avanti vediamo cosa cosa ne esce direi ciao intanto sono davide sono data engineer a larus al momento mi occupo di sviluppo in scala su piattaforme come apache spark e neo4j ma in una vita non troppo remota sono stato anche sviluppatore php my sequel e anche javascript diciamo perché no sui social su cui voglio farmi trovare mi trovate come utnav o magari con questa immagine che è il mio avatar da secoli e mi piace la musica sono la batteria e tifo inter era un po preoccupato data dato il fatto del 5 maggio ma direi che non sta non è andata poi così male vi parlo un attimino della della mia azienda larus è stata fondata nel 2004 venezia dal nostro si o lorenzo speranzoni e a venezia c'è tuttora la sede principale sono altri uffici a pescara e a roma e il nostro obiettivo è quello di sviluppare piattaforme per aiutare le aziende a diventare insight driven e ottenere il massimo dai dati che che hanno in loro possesso ci occupiamo di data science data visualization ai machine learning e basandoci principalmente su tecnologie no sequel e di event streaming direte ma davide perché perché ci viene a parlare del deploy se fate tutta questa roba qua perché tra le cose che fa che facciamo non risulta i devops quindi diciamo ci stiamo abbiamo imparato a superire questa mancanza in altri modi e questi sono alcuni dei dei partner che che abbiamo tra cui faccio notare neo4j del quale siamo diventati premier partner l'anno scorso e fra l'altro stiamo stiamo assumendo quindi se volete andare sul nostro sito www.larus-ba.it ci sono le posizioni aperte veniamo l'agenda molto semplice abbiamo un problema valutiamo una soluzione e poi facciamo live coding per vedermi sbagliare un sacco di cose vi avviso anche che faremo un po di ironia a spese di devops come era intuibile dal titolo non offendiamoci per favore che noi dev amiamo i devops e io faccio ironia solo perché sono geloso che loro non fanno le call con i clienti quindi immaginiamo questo scenario da un mesetto stiamo sviluppando la nostra app sito non so quello che volete è lunedì arriva il project manager e ci dice ascolta ma venerdì facciamo la demo cliente dai che è passato un mese magari gli fa piacere qualche e voi dite certo non c'è problema andare a venerdì troviamo un modo per metterla online insomma sistemare project manager tranquillo bello bello allora dopo chiamo il cliente lo fissiamo andate a prendere il caffè e poi vi chiama il project manager e dice ok guarda venerdì il cliente non può allora ho fissato la call per domani alle 3 che così avete mezza giornata in più per lavorarci ora scappo ciao ciao che c'è un impegnone ciao ciao e quindi serve online adesso è un casino serve fra l'altro online fatta bene perché poi sappiamo facciamo la demo e poi il cliente vuole le modifiche poi si scatena l'inferno saranno giorni difficili non riusciremo a migliorare quel deploy che abbiamo fatto quindi dobbiamo perdere tempo per aggiornare l'app tutte le volte facendo passaggi manuali insomma viene un po viene un po un casino e quindi quello che vogliamo fare è investire un po di tempo per fare una cosa fatta abbastanza bene diciamo quindi escludiamo i deploy tipo cloniamo la repo sul server e facciamo pull ogni volta poi lanciamo i comandi o magari mettiamo pubblico online il nostro environment di dev o magari l'ftp tipo cose qua cerchiamo di no quindi niente dobbiamo andare un po veloci dobbiamo andare un po veloci e il problema è che non conosciamo AWS Azure o tutte queste cose fancy qua tantomeno sappiamo cos'è Kubernetes e soprattutto non abbiamo tanto budget quindi questi servizi che ti fanno il deploy da soli che costano 10 euro al mese il cliente non li vuole perché sono troppi soldi quindi più che velocità adesso abbiamo bisogno abbiamo bisogno d'aiuto e quando si parla di aiuto e di deploy nella stessa frase la soluzione è sempre una sola i nostri amici DevOps sempre pronti ad aiutare quindi seguendo le indicazioni della guida galattica per informatici vediamo tutti gli step da tenere a mente per inviare una corretta richiesta al team DevOps iniziamo chiedendo per favore ok scusate avevo sentito un simpaticissimo bambino piangere mi dispiace è un DevOps in erba ah ok ha ragione allora diciamo iniziamo chiedendo per favore ai nostri amici DevOps se possono farci una semplice ragazzi io chiedo a tutti di togliere l'audio e lasciar passare Davide cerco di mutarvi io ma faccio un po' fatica quindi chiedo collaborazione ho mutato tutti comunque adesso mi sentite? sì ok perfetto dicevo che ok chiediamo ai nostri amici DevOps se per favore si fanno una pipeline di deploy per la nostra app che in realtà questo primo step non è cioè non conta molto cosa chiediamo dato che di solito la maggior parte delle volte la prima cosa che chiediamo ai DevOps la risposta è sempre no loro hanno questo filtro dove tu la prima cosa che gli chiedi anche se vuoi 50 euro ti rispondono di no per sicurezza poi vediamo quindi procediamo con la tattica di avvicinamento più diffusa che è quella del caffè li portiamo al bar, gli offriamo il caffè e ridiamo a un paio di battute sulle blockchain che non capiamo e poi gli chiediamo se per favore ci possono aiutare a deployare sta roba per domani urgente e è in quel momento lì che sappiamo di ricevere la più rassicurante delle conferme e quindi aspettiamo aspettiamo ci hanno detto così quindi cosa dobbiamo fare? aspettiamo e poi gli chiediamo a che punto sono e in realtà in cuor nostro sappiamo che dovremmo magari lavorare a una soluzione alternativa però noi aspettiamo lo stesso e cominciamo ad agitarci e niente chiediamo a che punto siamo per favore e ci rispondono che sai è stata fuori una situazione non ce l'ho fatta niente quindi rimane solo una cosa da fare che non è quella di prendere i devops a martellate ovviamente ma è quella di rimboccarci le maniche e fare da noi vi fermo un attimo per dire che ovviamente si scherza devops non offendetevi non è vero che dite sempre di no la prima volta a volte anche la seconda ma comunque sappiamo tutti che dite di no per un motivo a noi dev ci piace vedervi sclerare vi chiediamo sempre un sacco di cose che non ci servono per davvero che potremmo fare da soli ma non abbiamo voglia di cercarle su google e quindi a proposito di fare da soli prepariamo la nostra pipeline da soli quindi di cosa abbiamo bisogno? abbiamo bisogno di una symphony web app un server remoto dove ci gira docker e possiamo raggiungere con ssh un docker file e un account di docker hub e in 20 minuti circa dovremmo essere a posto quindi il nostro obiettivo qual è? è passare dal nostro localhost 2.8000 facendo meno passaggi possibile a un dominio online che il cliente può anche usare volendo e come lo facciamo? creiamo innanzitutto l'immagine docker per la nostra applicazione php la mettiamo da qualche parte che poi vediamo e facciamo in modo che il nostro server remoto possa possa scaricarsi l'immagine e la possa eseguire inoltre tutta questa cosa qua deve essere facile da rieseguire perché se dobbiamo fare deploy molto spesso questa cosa è molto utile deve essere configurabile perché non vogliamo deployare la stessa configurazione che abbiamo in locale quindi magari con la barra sotto di debug di symphony che rallenta tutto e cose del genere e soprattutto non deve essere volatile nel senso che non vogliamo che ogni volta che riavviamo i container di docker perdiamo i dati parliamo un attimo di questo somewhere somewhere quindi dove mettiamo le nostre immagini di docker le mettiamo su docker hub docker hub è questo posto questo hub dove possiamo pushare le nostre immagini ed è anche il posto da dove vengono scaricate le immagini quando noi lanciamo qualsiasi comando di docker ad esempio le immagini di mysql vengono da docker hub dall'account di mysql iscrivendoci abbiamo anche diritto a una repository privata quindi se la nostra applicazione mega fantastica è sensibile possiamo pusharla sulla repository privata e soltanto i collaboratori di quella repository possono scaricarla e usarla quindi funzionamento rapido di docker hub Davide crea la sua applicazione fa docker login fa docker push sulla sua repository l'immagine va su docker hub poi Davide va da un'altra parte sul server remoto fa docker pull della stessa immagine e siamo posto abbiamo trasferito l'immagine dal nostro dal nostro environment locale al nostro environment remoto e non abbiamo del codice dei file o cose del genere è tutto gestito da docker in più cosa succede che tutti i davidi nel mondo possono fare pull di quella stessa immagine se ce n'è bisogno quindi la nostra la nostra ricetta qual è? facciamo il build dell'immagine pushiamola su docker hub facciamo l'accesso al nostro server creiamo un docker compose dove mettiamo un servizio per la nostra app un servizio per altre immagini che ci servono MySQL, Redis quello che volete le connettiamo con una network di docker e settiamo i volumi in modo che abbiamo una persistenza automatizziamo qualche operazione con uno script ad esempio le migrazioni pulire la cache cose del genere ed eseguiamo lo script remoto dal nostro environment locale con un comando ssh questo è il piano e vediamo un attimino di che app stiamo parlando siccome è super mega meravigliosa è un'app in symphony 5 c'è un MySQL database che è gestito con docker compose nell'ambiente locale c'è un docker file che adesso andiamo a vedere com'è fatto e io uso i make file perché mi pesa un po' il culo lanciare due comandi uno in fila l'altro quindi vediamo il docker file un attimo allora questo docker file qua non è diciamo non è necessario ai fini del deploy quindi poi alla fine possiamo discutere delle scelte che ho fatto nel docker file finché volete però non cambia molto da il processo di deploy ecco infatti è già fatto perché ci serve soltanto per creare l'immagine quindi partiamo da un'immagine di php8 settiamo la workd installiamo tutte le cose che servono a php creiamo la directory i var gli diamo i permessi in questa directory poi ci va di base se non tocchiamo niente la cache e i log di symphony questo qua potrebbe come ho detto potrebbe anche essere un volume esterno di docker però intanto lo facciamo così copy punto punto cosa copia copia tutto quello che c'è nella nostra root del progetto dentro l'immagine tutto tranne i file che sono scritti nel docker ignore che funziona esattamente come un git ignore semplicemente gli dice quando copi la roba ignora quelle directory lì che nel nostro caso sono la directory var e la directory vendor perché la directory vendor perché poi noi installiamo composer e lanciamo composer install senza dipendenze di dev ovviamente e poi lanciamo qualche qualche ottimizzazione esponiamo la porta 8000 che è la porta che poi dovremmo mappare sulla 80 nel nostro sul nostro server remoto però intanto facciamo girare la nostra applicazione sulla nostra immagine sulla porta 8000 e poi questo diciamo è il comando che permette che ci permette di non dover installare altri altri server come Apache o Nginx quindi usiamo il built in server di PHP PHP-S lo lasciamo in ascolto su su 0000 e sulla porta 8000 lasciandolo in ascolto su 0000 praticamente ascolta tutti gli indirizzi che sono mappati su quel server e gli diciamo che la la root del progetto è public quindi dove si trova essenzialmente il nostro index.php e ok facciamo cose io adesso devo cambiare la condivisione del monitor che è un'operazione assolutamente complicata anche perché non trovo più zoom allora posso far così tipo stop share share e desktop 2 ottimo adesso vedete la l'app fantastica giusto immagino grazie mille quindi vediamo un attimino cosa fa l'app l'app fa una cosa molto semplice è un'app fantastica che ci aiuta a vedere chi è fantastico usando questa app fantastica quindi vediamo chi è fantastico io posso mettere un nome qualunque ponitei mac furetto nome più diffuso e ci dice che purtroppo non siamo fantastici quindi possiamo riprovare possiamo mettere davide e guarda caso l'algoritmo complicatissimo di machine learning che c'è dietro ha detto che sono fantastico ma non solo non abbiamo solo questo abbiamo anche un famoso un bellissimo pannello di amministrazione dove ci dice chi ha fatto cosa tra l'altro c'è anche un po' di clickbait perché ci dice che anche se aggiungi il tuo twitter in realtà non cambia assolutamente niente però almeno abbiamo il tuo twitter per spammarti questa è la nostra applicazione locale abbiamo la barra dei symphony qua sotto quello che vogliamo fare è andare su awesome app punto prod e farla funzionare vogliamo vederla là in modo da poter dare questo link al cliente in modo che dopo la demo lui ce lo può provare allora l'hpstorm questo qua è una versione leggermente più estesa del docker file che abbiamo visto sulle slide e la nostra ricetta cosa diceva? la nostra ricetta diceva creiamo l'immagine quindi dobbiamo creare l'immagine andiamo su sulla nostra shell e come si crea l'immagine si fa la build quindi docker build dobbiamo dargli un tag il tag sono quelle quelle stringhe che vedete sul docker compose quando mettete image due punti mysql cose del genere quindi la nostra la nostra immagine si chiama udnof che è il mio account su docker hub che è dove poi pusciremo l'immagine app il nome della repository due punti la versione adesso metto latest e secondo me è la cosa migliore se in uno scenario come questo è taggarla sempre latest in modo che poi puliamo sempre lo stesso tag comunque vi facciamo vedere dopo e poi gli diamo l'indirizzo il path del docker file che in questo caso è nella directory corrente e lui builda cose adesso dobbiamo prendere l'immagine che abbiamo appena buildato che si trova nel nostro docker locale e metterla su docker hub quindi docker push hub up due punti latest e basta lui sta pushando cose dato che pusha cose noi possiamo andare sul server remoto sul nostro server remoto quindi di ssh awesome awesome app punto prod dovrebbe essere sì esatto siamo qua e creiamo una una directory che si chiama ho scelto una parola che non so pronunciare è fantastico awesome punto app cd awesome punto app e qui creiamo il nostro docker compose file si vede che non sono un devob dal fatto che uso nano qui possiamo scriverlo tutto da capo oppure io preferirei andare a prendere il docker compose che abbiamo in locale nell'ambiente di dev che ha già un po' di roba così o meno rischio di sbagliare meno quindi andiamo qua aggiungiamo al nostro docker compose il servizio della nostra app php che magari è già stata pushata esatto quindi il servizio si chiama awesome app image è esattamente un slash awesome punto app due punti latest poi abbiamo da mappare le porte abbiamo detto che noi vogliamo che il nostro sito giri sulla 80 perché non vogliamo mandare al cliente un dominio tipo awesome app punto prod due punti 88 54 vogliamo semplicemente mandargli il link perché lui le porte gli fanno paura e quindi mappiamo la 8000 della nostra immagine che avevamo sul locker file prima sull'80 del server poi network che poi andremo a creare la chiamiamo somnet poi direi basta qua mysql mysql aggiungiamo la network anche a mysql dov'è essere uguale e poi la creiamo anche qua senza particolari parametri ok come vi dicevo dobbiamo il nostro deploy deve essere un po' configurabile quindi non possiamo ottenere la stessa password di mysql che avevamo in locale e magari dobbiamo anche scegliere un altro un altro utente e non collegarci al database come root quindi intanto scegliamo una password fuffa qua difficile da indovinare per root abbiamo mysql database che è awesome db abbiamo mysql user che è awesome user e poi abbiamo ovviamente mysql password che è c54 tipica password per fare i test abbiamo quasi tutto ci manca settare un po' di environment per per la nostra app fantastica quindi settiamo app env prod in questo modo ci toglie un po' di roba da symphony ci toglie la barra sotto ci toglie qualcosina poi dovrebbe essere app key app secret che generiamo e qui abbiamo database url che è la stringa di connessione al database che non me la ricorderò mai a memoria quindi la copio da qua e la modifichiamo database awesome db è giusto abbiamo lo stesso database anche qua 127.001 è sbagliato qui dobbiamo usare il nome del servizio mysql che abbiamo sul docker compose e qui dobbiamo usare il nostro utente che è awesome user e la nostra password che è cconia 54 allora sto un attimo guardando che sicuramente mi manca qualcosa però lo scopriremo solo vivendo quindi facciamo così file name to write docker compose ok quindi noi abbiamo un docker compose abbiamo la nostra immagine php su docker app teoricamente se noi facciamo docker compose app meno di fra l'altro is invalid per ok mi sembra qualcosa environment molto bene è tutto up quindi possiamo provare a andare su google chrome questo qua è il momento dove se non funziona mi sparo ed ecco qua noi siamo andati sul nostro dominio che punta al nostro server remoto e tutto funziona più o meno nel senso noi avevamo delle 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 tabelle sulla nostra app locale perché ci salva ci salva gli omini qua quindi quindi qua non ci sono se io provo a andare sul pannello d'amministrazione esplode perché esplode perché dobbiamo lanciare le le migrazioni quindi come si lanciano le migrazioni su usando docker possiamo usare docker compose sempre exec vediamo quanto non mi ricordo exec il nome del servizio awesome app e poi gli passiamo la stringa per eseguire il comando bin console doctrin migrations migrate meno meno no interaction proviamo bello allora vediamo cosa è successo perché non è bin console forse no è assolutamente bin console no no ho sbagliato ecco perché ce l'ho facciamo bash meno c eccolo qua ce l'ho fatto paura e ha lanciato la migrazione torniamo sul nostro sulla nostra fantastica app se andiamo qui funziona possiamo anche provare un candidato che è un candidato ad essere una persona meravigliosa proviamo sempre Davide visto che così mi aumenta l'autostima e ok funziona sta funzionando abbiamo creato la nostra abbiamo creato la nostra immagine pushata su docker hub il nostro server sta sfruttando la nostra immagine ci sta servendo esattamente la 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 nostra la nostra applicazione però sono tanti passaggi manuali quindi un miglioramento che possiamo fare subito è creare un uno script di deploy quindi user bin dash esattamente qui scriviamo esattamente tutti i passaggi che abbiamo fatto noi a mano fino adesso quindi quando eseguiamo questo script noi abbiamo l'applicazione che sta girando quindi dobbiamo fermarla docker compose down poi docker compose pool app questo questo cosa fa aggiorna l'immagine di docker della della nostra applicazione solo quella non quella di mysql docker compose app meno di force recreate così ricreiamo i container siamo sicuri e qui dobbiamo lanciare un po' di un po' di comandi su symphony quindi run app bash cache meno c php bin console solito questo me lo copio che tanto vuole anche sotto cache clear env prod qui è doctrine migrations migrate no interaction ovviamente qua possiamo lanciare altre altre mille mille comandi quelli che vogliamo che ci servono per fare il setup della nostra app quindi entriamo nella directory down aggiorniamo l'immagine di docker della nostra applicazione tiriamo su tutto lanciamo la pulizia della cache e le migrazioni ovviamente bisogna stare attenti che ogni volta che facciamo il deploy le migrazioni vengono lanciate quindi occhio a scrivere le migrazioni in questo caso chmod più x deploy e possiamo provarlo anche vediamo se funziona tutto quindi stoppa i container stoppa i container ho detto mi pica tantissimo stoppare il container allora bevo l'acqua intanto sta aggiornando l'immagine e poi ritira su tutto fa la pulizia della cache e lancia le migrazioni molto bene quindi abbiamo un comando che essenzialmente ci aggiorna l'immagine da docker hub e riavvia tutta l'applicazione andiamo qui per vedere se sta funzionando tutto funziona tutto abbiamo ancora il nostro il nostro record che avevamo prima nonostante abbiamo riavviato i servizi quindi adesso cosa ci resta da fare ci resta da automatizzare un po' le cose lato lato dev quindi potremmo fare un comando sul makefile che si chiama build che semplicemente fa quei comandi che vi ho annunciato prima docker build meno t la nostra repository test punto e poi la push anche docker push sta roba proviamolo al volo make build sta andando quindi questo qua ci aggiorna l'immagine su docker hub e poi abbiamo un deploy magari un deploy che farà ssh una fchiocciola insomma app punto prod e le pregunte sh aspettiamo un microsecondo che finisca di di pushare non dovrebbe impiegarci così tanto ma va bene lo stesso e quindi facciamo make deploy e lui sta eseguendo lo script che abbiamo eseguito prima mentre eravamo in ssh sul server e sta facendo tutto lui se siamo super lazy come sono io possiamo fare un comando che si chiama build deploy che semplicemente che semplicemente fa build e deploy e proviamo a cambiare qualcosa tipo non lo so proviamo a cambiare un template qua ci mettiamo versione 0.01 che che al momento non c'è abbiamo fatto questa modifica make build deploy lo so che non è bello durante una mentre si parla aspettare che vengono eseguiti i comandi è a scopo a scopo dimostrativo ecco la parte brutta del live coding è che ci siamo quasi forse io ho sempre paura che quando faccio queste cose qua poi non mi sono accorto che mi sono staccato tipo sono 20 minuti che parlo da solo no fermo che sia ancora con noi vai tranquillo ecco abbiamo fatto il deploy ha fatto tutto con un comando e ci ha aggiornato la nostra app direi che con il live coding abbiamo finito vado un secondo sulle slide veloce veloce perché di sì e facciamo un piccolo recap quindi la nostra soluzione è relativamente semplice da implementare ma comunque sicuramente veloce se abbiamo tutti i pezzi cioè se abbiamo il docker file e tutto quanto è relativamente veloce è anche veloce da usare basta un comando e dopo ovviamente dipende dalla vostra connessione che deve fare l'upload dell'immagine però lì possiamo farci poco è abbastanza facile da mantenere nel senso che tutti i pezzi sono abbastanza in ordine quindi abbiamo un docker file abbiamo un docker compose file con tutta la configurazione è abbastanza flessibile può essere estesa ovviamente è dev friendly nel senso se uno conosce un minimo di docker riesce a mantenerlo lo stesso ma soprattutto è anche devops friendly nel senso se dobbiamo un giorno sviluppare meglio quindi renderla scalabile e avere dei cluster che fanno girare la nostra applicazione che ti dice se sei fantastico abbiamo già l'immagine l'immagine di docker pronta comunque è già tutto predisposto in teoria le domande le facciamo dopo però volevo far vedere questo bellissimo uccellino e grazie mille a tutti grazie a te Davide grazie mille direi che per le domande il momento è giusto quindi ringrazio di nuovo te ringrazio di nuovo Chiara per i vostri due per i vostri due talk e direi che ci spostiamo nell'area networking così siamo tutti un po' più rilassati di nuovo grazie e applausi ad entrambi da parte mia e da parte di tutti tutti i ragazzi che ascoltano ma non hanno il microfono attivo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti